Allora, quando è arrivata per la prima volta su questo palco, aveva già un carattere da vendere. È una delle voci pop più grintose e con la sua musica sta conquistando l'Europa. Dolce Nera! Di Dolce Nera ci vediamo a casa. Dirige l'orchestra il maestro Fabio Gurian. Canta Dolce Nera! Grazie! 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 sarebbe bello potersi dire non vedo l'ora di vederti Amore, con una scusa, una sorpresa fai presto e ci vediamo a casa Grazie mille Grazie mille